Per me Rigoni mi sono sempre espresso con grande positività nei suoi confronti di quello che ha dato l'anno scorso. Se si rimette in careggiata, si allena come si deve allenare, lo prendo in considerazione come tutti altri, senza escludere nessuno, come ho fatto con tutti gli altri giocatori. Oggi è entrato, secondo me poteva fare meglio, però se si allena come si è allenato gli ultimi tre giorni con quella volontà, lo prendo in considerazione. Se fa, mettiamo così, il coglione, allora non è colpa mia se uno non ha voglia di allenarsi. E' altra cosa. Bisogna distinguere bene il comportamento. Come ha detto una bene per un po' smorzare, il gaspo una volta ha detto bene, non mettere mai definitivo. Lui dice che ci sono quelli buoni, buoni, buoni che diventano cattivi, ci sono quelli cattivi che diventano buoni, perché i giocatori sono così umanamente, passano momenti. Penso che Rigo ci può dare tanto da qua fino a fine campionata.